La storica contrapposizione tra due giostre cavalleresche rivive oggi nelle pagine di un volume scritto a quattro mani da Vittorio Beoni e Giorgio Ciofini. La nostra giostra è il palio dell'assunto, questo è il titolo del libro dove la odia assunto non è un errore di stampa ma un gioco di parole che la dice già lunga sulla rivalità tra le due manifestazioni. È nata dalla passione e anche dall'esperienza di Vittorio Beoni che è stato per tanti anni direttore della giostra del Saracino e dell'istituzione giostra del Saracino e quindi voleva contribuire con questa sua esperienza, dare un contributo alla città e alla memoria. L'opera, corredata dai disegni a colori di Roberta Pagini, disponibile in tutte le edicole e librerie del centro di Arezzo, è divisa in tre parti. Si inizia con una ricostruzione storica della giostra e della concorrenza con il palio di Siena, non voluta ma nemmeno temuta, sottolineano gli autori. La nostra manifestazione è cresciuta sotto tutti gli aspetti e non ci va proprio di essere trattati con sufficienza da nessuno, scrivono, ma soprattutto da chi si ritiene l'unico depositario della storia per una sorta di divina investitura. La seconda parte del libro è riservata alla cronaca, vicende e aneddoti raccontati da Beoni e trascritti dal giornalista Ciofini. Infine, l'ultima sezione è dedicata al futuro della manifestazione. Ci sono anche delle proposte che noi raccogliamo, sono proposte in parte che sono immerse anche dalla città, come quello per esempio di trovare un museo per la giostra, un centro di documentazione per la giostra. Secondo noi sarebbe l'ambientazione ideale della Fortezza Medice appena ristrutturata. Grazie. 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 Grazie.